bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi nel giro di tre ore siamo riusciti a completare tutte le sfide della settimana numero 6 questo vuol dire ragazzi che c'è ancora una cosa da fare prima di considerarla completamente conclusa ovvero sia andare a prendere la stella segreta che si trova come sapete nascosta nel wallpaper che è uscito nella settimana l'avete già visto nel mio video precedente in realtà ve l'avevo già detta ma ve la voglio ridire un'altra volta in modo che vi rimanga ben chiaro la stella segreta ragazzi la andiamo a vedere nel wallpaper sulla destra la possiamo notare in semitrasparenza esattamente sopra al furgoncino del ristorante quello con la forchetta e il coltello incrociati il furgoncino raga dovrebbe essere qui a boschetto se non ricordo male vediamo subito vediamo subito ragazzi la prendiamo assieme e poi ovviamente ci salutiamo scrivetemi qua nei commenti ragazzi se voi avete già completato tutte le sfide della settimana numero 6 allora è un po lontano e dobbiamo andare verso il boscetto premo già il paracadute premo già il paracadute perché abbastanza lontano cerchiamo di andare a prenderla ragazzi cerchiamo di andare a prenderla con calma praticamente è l'unico camioncino diverso che c'è in tutta la mappa che si sta spostando perché una volta era corso commercio poi l'ha messo dall'altra parte mi sembra che era a parco mi sembra che sia boschetto bisunto però non lo ricordo con precisione alla peggio lo andremo a rifare allora attenzione un attimo attenzione un attimo vediamo di arrivarci purtroppo siamo leggermente corti ma ci arriveremo comunque a piedi non c'è problema ok vai 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 di corsa vai di corsa verso il boschetto vediamo se già lo riusciamo a vedere dovrebbe essere qui se non ricordo male vediamo eh vediamo se non è qua vuol dire che ha corso commercio dove caspita era oh no ma aspetta è qua per forza eccolo 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 lì davanti ragazzi eccolo lì davanti la stella dovrebbe essere là sopra tra la forchetta e il coltello vediamo se c'è azzecco eccola qua ragazzi e arriviamo a prendere anche l'ultima stella ovvero sia un livello extra del pass battaglia ce la prendiamo perfetto trova la stella di battaglia segreta mi raccomando quando la trovate non quittate non quittate perché se quittate non ve la dà io mi vado a fare suicidare mi vado a far sparare da quel tipo lì vediamo se mi spara quel tipo lì sparami ok perfetto finito ragazzi sfida completata sfide della settimana numero 6 terminate andiamo a vedere dove arriviamo con il livello del pass battaglia credo 82 credo e vai 86 porca ero convinto 82 beh ragazzi con questa immagine io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su fortnite e su fortnite per android noi ci vediamo in live ciao 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 ciao